ciao a tutti e benvenuti sul canale di Decay Beauty io sono Ilaria e oggi vi presento il brand Isoi appena sbarcato su Decay Beauty lo shop di cosmesi coreana naturale e biologica sì perché anche Isoi è un brand pioniere della Clean Beauty e il brand nasce dall'acronimo della frase I'm so intelligent perché la sua fondatrice voleva diciamo stressare il concetto di quanto sia smart oggi utilizzare solo cosmesi biologica e naturale che non solo rispetta la pelle non solo rispetta l'ambiente ma è carica di principi attivi performanti per il viso quella che vi presento oggi è la linea intensive una linea che specialmente indirizzata a idratare e nutrire la pelle presenta sei prodotti infatti di idratazione che vanno dalla essence a un prodottino molto particolare che vi anticipo lo spot che serve diciamo a coprire tutte le esigenze di idratazione ma scopriamole insieme prodotto per prodotto il primo prodotto della linea è uno dei prodotti che io amo di più perché io sono un amante dei tonici e delle texture più liquide e quindi vi presento subito l'intensive treatment essence della linea intensive lui lo dichiara subito sul prodotto skin elasticity booster quindi questo è veramente un prodotto che migliora l'elasticità del viso si usa come step 4 della beauty routine coreana è un tonico viso più strutturato tant'è vero che insomma vedete che nel prodotto c'è il nome essence quindi insomma vira di più verso un prodotto più appunto strutturato ha una formula piena di estratti botanici e vegetali di cui ve ne segnalo in particolare due il primo è l'arbutina anche un principio attivo estratto dall'uva ursina e che serve a minimizzare l'insorgenza delle macchie gestire gli accumuli di melanina e quindi evitare l'iperpigmentazione e il secondo estratto è un estratto dal sommacco cinese che è un particolare tipo di arbusto diffuso in tutto l'oriente che ha funzione anti age e antiossidante questo è un prodotto che potete inserire anche in un erogatore spray per realizzare una bellissima mist e che è adatto a tutti i tipi di pelle quindi dalla pelle grassa alla pelle mista secca sensibile e matura se volete introdurre nella vostra routine un effetto estremamente idratante ed elasticizzante la linea intensive di isoi prosegue con due sieri ampoule il primo per lo step 5 diciamo di idratazione di base o essence e il secondo come extra trattamento e quindi uno step 6 qui c'è l'intensive lifting serum che è veramente un prodotto bellissimo se volete proprio rimpolpare fissare e vedere il viso più pieno e tonico mentre l'intensive anti age program è una magica ampoule da inserire se volete veramente un effetto nutriente e intensamente idratante entrambi questi prodotti contengono il tripeptide 5 che è uno dei peptidi di ultima generazione che ha un doppio scopo quello sia di stimolare la produzione di collagene sia di diciamo allungare la sua vita e quindi preservare dalla degradazione del collagene stesso entrambi hanno un ricco bouquet che contiene la castagna la serola rosmarino e sono tutti diciamo principi attivi volti a tonificare elasticizzare idratare e lenire il viso le texture di questi prodotti ricordiamo l'intensive lifting serum e l'anti age program sono ideali per essere inseriti in tutti i tipi di routine dalla pelle grassa alla pelle secca per lo step 8 e per lo step 9 della nostra beauty routine con la linea intensive di isoi arrivano le creme in vasetto in vasetto di vetro e vi sto parlando dell'eye cream e dell'energizing cream qui le texture si arricchiscono di burri come il burro di karité o il jojoba o l'oliva per appunto rafforzare le texture e renderle più più intense questi sono prodotti che tipicamente arrivano anche nella routine serale che è più strutturata e che le pelli immature adoreranno perché non sono queste texture comunque assorbibili e molto molto confortevoli sul viso l'energizing cream contiene anche ceramidi e la cream contiene l'estratto fermentato del fungo più performante per la cosmesi con effetto antiossidante e anti age entrambe sono assolutamente consigliate per pelle matura e che è veramente disidratata e secca la linea intensive di isoi si chiude con un prodotto che si inserisce nello step 9 della beauty routine che non tutte le linee cosmetiche hanno si tratta dell'intensive lifting spot quindi una crema molto ricca di principi attivi anti age e nutrienti c'è per esempio l'olio di macadamia c'è il tripeptide ci sono tutti anche il burro di karité che si caratterizza per questo particolare applicatore in metallo che tra l'altro in particolare d'estate messo in in frigo e quindi molto freddo da una piacevolezza di applicazione sulle rughe e magari su qualche gonfiore ha quindi lo scopo di ritoccare in maniera locale le rughe e può essere applicato sulle naso labiali sulla fronte sul collo su qualche zona particolarmente secca del viso la possibilità di utilizzare questo prodotto per proprio parti localizzate del viso lo rende un prodotto estremamente versatile che può essere utilizzato da tutti i tipi di pelle che abbiano appunto dei dei punti particolarmente secchi da voler trattare questo è anche un prodotto molto bello perché d'estate è possibile idratare il viso con una texture più leggera magari quindi con il tonico mettendo due volte la essence e poi limitandosi proprio a trattare le rughe in maniera più intensa e liftante bene questo è la presentazione di tutta la linea intensive di Soi un brand che come vi dicevo è piuttosto nuovo ed è appena arrivato su Decay Beauty Spero che questo video vi sia piaciuto se avete delle curiosità o delle domande scrivetemele pure nei commenti ovviamente like se vi è piaciuto il video e seguite il canale se siete nuovi di Cosmesi Coreana e soprattutto di Cosmesi Coreana Biologica noi ci vediamo al prossimo video di presentazione perché il brand di Soi ha ancora tantissime novità da proporvi ciao da Ilaria ciao 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 ciao